Buongiorno! Sapete che giorno è oggi? Lo sapete? Tutti insieme lo possiamo dire? Thanks God is Friday! Benissimo! È venerdì! Vi piace l'entusiasmo che ho al venerdì? Vi piacerebbe riascoltare, se riuscissimo, com'è questa mattina, com'era questo identico momento l'unidì mattina, no? Capire invece com'è al venerdì. Comunque, come state? State bene? Spero di sì, mi auguro di sì. Io sono molto contento di essere ancora qui con voi tutte le mattine, dalle 7 alle 9 con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Ben ritrovati, ben ritrovate. Cosa state facendo? Potete dircelo al 331-7853-555. Questo è il punto di partenza, diciamo. Poi c'è tanto altro che si può fare, ad esempio, scoprire cosa fare nel weekend. Lo scopriremo, se volete o non volete farlo, insieme ai RIB nella seconda parte, per una mezz'oretta più o meno, nel senso, nella seconda parte di questa prima ora di trasmissione. Poi parleremo di libri, parleremo di libri nella seconda parte, andremo proprio in libreria, perché a Milano chiudono la libreria da una parte, ma ne aprono altre, oppure ci sono quelle che rimangono aperte ormai da un po' di anni e sono punti di riferimento nei quartieri. Insomma, c'è tanta, tante cose. Ci sono tante cose da raccontarvi, tante cose da fare insieme questa mattina. Come sempre qui su Crystal Radio e come sempre con Good Money Milano fino alle 9. E poi lo sapete benissimo che ormai è partito tutto il palinsesto di Crystal Radio, non solo Good Money Milano, ma tanti altri programmi fino a tarda sera. Quindi vi facciamo compagnia sempre qui sulle frequenze 96.2 FM, ma anche sul Dab Plus, ma anche sul vostro cellulare, ma anche sul vostro computer. Insomma, tutto questo è Crystal Radio, tutto questo è Milano. Si sente, e si sente molto bene. Mi sentite? Buongiorno. Last night DJ saved my life. Così dicono gli in-deep, scorsa notte un DJ ha salvato la mia vita. Così sembrerebbe che appunto canta questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui alle 7.17 minuti su Crystal Radio, qui a Good Morning Milano. Non ve lo ricordo sempre, così che insomma vi entri un po' nella testa e sappiate cosa state ascoltando e come mai. Come mai lo ascoltate? Perché volete sapere cosa succede a Milano. E anzi lo scopriamo e lo sappiamo anche grazie ai vostri Whatsapp che arrivano al 331-78-535-555. Grazie mille al pragmatismo e alla fattualità di Alberto che questa mattina ci scrive ancora giustamente buongiorno e buon weekend. E fin qua. A Fabio, Beatrice e Ginevra. Grazie mille. Ringraziamo tutti quanti in toto, in gruppo. Un saluto a tutti quali in ascolto, perfetto. Quindi anche vedete com'è gentile, saluta anche voi in ascolto. E poi il pragmatismo, la realtà arriva a chiudere questo messaggio. Oggi sciopero dei mezzi pubblici e piove. Mi viene da pensare che, insomma, forse il famoso tanto amato da alcuni, tanto vituperato da altri, smart working potrebbe aiutare in queste situazioni. Insomma, gli scioperi si sanno ormai con un abbastanza largo anticipo. Forse negli uffici bisogna cominciare a pensare di organizzarsi in modo che dire, se vedete c'è lo sciopero venerdì 18 ottobre, smart working per tutti. Basta, a posto. Ma dopo, vabbè, al massimo ci fa un'altra giornata invece. Così, insomma, riusciamo un po' a mitigare. Vero è che in realtà però questi scioperi hanno delle motivazioni sotto. Capisco che per molti di noi sono in realtà una rottura di scatole e basta. Ma in realtà hanno delle grosse motivazioni. Tra queste, ad esempio, quello che i lavoratori ATM denunciano un po' e dicono che, insomma, abbiamo i turni attualmente come sono strutturati sono turni che non permettono la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare. Le ferie non sono un diritto ma una sorta di concessione con il risultato che ogni lavoratore ha decine di giornate di ferie pregresse accumulate, oltretutto, che non riesce neanche a fare. Cose che noi diciamo, eh vabbè, le ferie, non riesce a conciliare, io chissà sarà mai. Vorrei vedere voi. Vorrei vedere se qualcuno di noi ha detto, Cesso, guarda, però non puoi conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Ah, le ferie a proposito, guarda, che forse te le daremo, però adesso vediamo, non so se... Come forse? Mi diritto le ferie. Quindi, insomma, è comprensibile che sia davvero una scocciatura per molti di noi, ma dobbiamo riuscire a comprendere anche le motivazioni che ci sono dietro a questi scioperi dei mezzi pubblici e questi scioperi di ATM. Cesare Cremonini, ora che non ho più te, invece no, voi ci siete. So che ora che ho voi invece all'ascolto, quindi sono ben contento di essere qui a raccontarvi un po' quello che succede in questa giornata di venerdì 18 ottobre e quello che è successo anche ieri, come ad esempio, come ricercolava Alberto, oggi piove, ieri non è che avessi fatto diverso neanche altro ieri e neanche domani, quindi insomma, continua a piovere qui, ma ieri è successo anche un... Poteva andare male, poteva rimanere offeso, come diceva qualcuno. Milano sotto la pioggia, leggo da Corriere della Sera, un albero cade in Piazza Lega Lombarda, due feriti, quindi insomma, è stata l'allarme arancione fino alle 21 di ieri sera, poi anche questa mattina, fino alle 6 di questa mattina c'era ancora allarme, adesso dovrebbe rientrare l'allarme, però insomma, sempre attenzione. Alberi e rami esradicati dalla pioggia e dal vento, in via Tabacchi danneggiata un'auto e le previsioni confermano che l'ondata di maltempo andrà avanti almeno fino a domenica 20 ottobre. Precipiazioni consistenti su tutta la regione. Poi c'è questo... Dice, temperature massime mai superiori ai 17 gradi. Posso dire che però 17 gradi non è poco. Cioè, 17 gradi, in questo momento ci sono 16 gradi, al 18 di ottobre, non fa freddo. Cioè, ragazzi, non sta facendo freddo, in realtà. Molto umido, però sì. C'è pioggia ovunque, ma non sta facendo freddo. Almeno questo, cioè, dobbiamo... Cioè, capiamoci, nel senso, va bene tutto. Quindi, è veramente un'auto. Forse sono tornate le mezze stagioni, a questo punto non lo so. Quando si diceva non ci sono più le mezze stagioni, beh, insomma, qui la stagione delle piogge sta andando benissimo in questo momento, mi pare. Comunque, ieri, appunto, come dicevo, è caduto un albero in piazza Lega Lombarda due feriti, per fortuna non sembrerebbe grave, quindi, come dicevano nel comunicato, state attenti a non sostare sotto gli alberi, a non camminare, capito? Lì è un albero unico, cioè, come fai? Se devi trasferire la piazza per forza, perché devi andare a lavorare, devi andare a scuola, come fai? Cioè, non è che puoi fare niente. Comunque, per fortuna, insomma, poteva andare ancora peggio, invece, rimaste lievemente ferite, per fortuna, dai. Meno male, sono contento per loro. Adesso ci faremo un attimino, piccola pausa, un po' di musica, e poi torniamo qui, perché dobbiamo capire cosa vogliamo fare del nostro weekend, o magari, invece, cosa in realtà non vogliamo fare. Tutto questo qui a Cristal Radio. Good morning, Milano! Baustelle, Charlie fa surf, alle 7.38 minuti Cristal Radio, di venerdì, 18 ottobre, al venerdì! Gli eventi della settimana, a cui io e Ribi non andrei... Buongiorno! All'unisono! Il corretto! Buongiorno, Ribi, come va? Benissimo! Questa canzone mi ha dato una carica pazzesca! Ho visto, ho visto, sì, sì, è vero. Come dire, la mettiamo apposta. Anzi, è arrivato anche un WhatsApp di Adriana, che dice, ok, adesso piango e canto fortissimo. No, madonna, addirittura piango. C'è dell'emozione. Sì, sono gli ormoni. La mattina alle 7.30 sono gli ormoni. Sono gli ormoni, c'è l'ormone. Devo svegliarsi. Comunque, allora, cosa ci racconti? Dove ci vuoi portare? O meglio, dove non ci vuoi portare? Allora, molti di voi mi avranno già ascoltato lunedì sera, immagino, e alcuni eventini sono già ripetuti. Ok, quindi se vi siete... Potete andare a fare le vostre cose. Sì, allora, intanto glielo diciamo adesso per non dirlo alla fine. Ogni lunedì sera dalle 20 alle 21 c'è tre Enmi fatto da me e da MM. Ok, e non è la metropolitana milanese. No, MM e MM. Sì, esatto, infatti. Va bene, andiamo avanti e procediamo. Allora, intanto il primo evento dove sicuramente non andrò è il Festival della Carbonara. Perché è così buono? A Nova Milanese, ragazzi, c'è una grande comunità di romani. Può essere? Che ne so io. Comunque, potevano stare a casa allora. Ma come no? Dai, questa è la grande faida tra Milano e Roma. Ok, va bene, va bene. Tutto un gioco, ragazzi. Scherzo. Stasera, venerdì 18 ottobre, che sera? Esatto, proprio questa, alle ore 20 e 30 al centro feste di San Vito di Gaggiano c'è un bagno sonoro con campane tibetane. Però non puoi ridere così. Perché leggi come l'aria feste di San Vito di Gaggiano e tu ridi. Sì, tra l'altro San Vito di Gaggiano è un bel posto. Conosco anche gente che ci abita. Anch'io. Pensa che so che ci vive un Ranfi, che non è parente mio però. Pensa. Vive nel condominio di una mia amica e sul citofono c'è Ranfi ma non ero io. Pensa. Allora, questa cosa costa 15 euro ma a me è quello che mi fa veramente riflettere l'attenzione posta subito dopo. Cioè ti dico quanto costa e poi ti dico richiesti. Cioè le cose che tu devi portare sono un tappetino, un coscino e una coperta. Eh, ce l'hai? Sì, ma non c'è andato. Ah, ok. Sempre su questo filone, diciamo, sabato 19 e 10 dalle 14 alle 18 in via 3029 a Rho ma bisogna prenotare via 30 o 29? Via 30. Ah, ok, scusa. Ho detto 30. No, no, l'ho fatto io la battuta. Scusa, non l'ho capito. 30 e 29. Via 3029 a Rho trattamento olistico gratuito che si chiama riequilibrio dei chakra. Però io posso dire tu sei ossessionata da queste cose qua. Ossessionata. Ossessionata. Ci devi andare secondo me. Ossessionata. Scoprirai il tuo terzo occhio. Non penso proprio che potrei mai andarci uno perché il rischio di addormentarmi è altissimo. E poi comunque no, dai, non va bene. Un altro evento. Sei troppo pragmatica e poco spirituale. Esatto, assolutamente. Infatti dovrei fare qualcosa di spirituale. Ci penserò per i prossimi eventi. Il quarto evento è sempre su questo filone. Eh. E si chiama Deep Blue Experience. Il profondo blu dell'anima. Un viaggio interiore per sfidare i limiti e ritrovare benessere. Domenica 20 ottobre in via Montegrappa 14 al Play Club dalle 15.30. Ma scusa, ma il Deep Blue non è nella depressione con la roba niccia? Non lo so, però a me il Deep Blue mi fa venire in mente gli abissi. Beh, anche sì. e io ho paura degli abissi. Ah, ecco. Adesso si spiega Cioè, penso che se mai andassi a un evento del genere mi verrebbe un attacco di panico. Eh, a vostro è un posto, va bene. Ecco. Cos'altro hai? Concludo con l'ultimo se per te va bene. Mi dovrei assistere nel leggere il titolo perché sicuramente lo sbaglierò, cari amici. Ce l'hai lì, però non lo so. Milano Jorley. 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 Jorley, come ha detto Fabio, Week. Jorley. Brilla con premi, esposizioni e nuove tendenze. Purtroppo un evento diffuso. Un evento diffuso a Milano. Dal 15 al 20. Dal 15 al 20. Quindi se volete comprarevi dei gioiellini finisce domenica. Sì, sì, sì. Se volete comprarevi dei gioiellini divertiti. Perché non l'hanno chiamato così? Gioiellini a Milano. Ma sicuramente potevano chiamare così. Poi Milano Jorley. Vabbè, la gioielleria è una roba importante. Eh, non potevano chiamare Milano gioielleria. Raga, raga amici degli eventi. Meno inglesismi più pragmatismo. Grazie. Io non so più cosa dirti quando fai così, va bene, però, scusate, sarà una roba anche commerciale, cioè dove arrivano da tutto il mondo a portare i gioielli a Milano. E parte del fashion e della moda anche quella roba lì. Non lo so, io non c'entrò, non mi interessa troppo. Ecco, benissimo. Basta. Vabbè, allora, prima di chiudere, però ricordaci a questo punto anche l'appuntamento di lunedì. Allora, vi ricordo l'appuntamento per un grande scoppiettante lunedì sera, prima di cena o post cena, a seconda di come ve la vivete, noi è pre-cena. tra le 20 e le 21 ci sarà Trenmi qui su Cristal Radio io con MM. Ecco. Basta, a posto. Va bene. No, no, così volevo andare tutte le indicazioni. Ma comunque volevo dirvi che se tutto va bene vado alla festa di Baggio. Ah, vedi? Vedi che l'abbiamo chiamato e ci vai? Anche questo è un evento. Mi darà fastidio qualsiasi cosa ma ci andrò. No, ma come? E se perché c'è la festa di Baggio questo weekend? Sì, spero che ci sia tanta pioggia. Vabbè, vabbè, guarda. Sei veramente una bruttissima persona anzi, salutiamo gli amici di Baggio e ci vedremo molto probabilmente domenica alla festa di Baggio. Ciao Baggiani! No, siamo Baggesi si chiamano, vabbè. Lo sapevo, ciao cari amici di Baggio. Sei veramente una cialtrona e quindi salutiamo la nostra cialtrona Eribi Ciao! E vediamo l'appuntamento appunto a lunedì a Trenmi e poi venerdì prossimo torni qua con noi per gli eventi della settimana a cui non andrai. Grazie mille Eribi andiamo con un po' di musica poi torniamo ancora qui su Crystal Radio alle 7.45 minuti 96.2 FM DAB Plus l'applicazione per iOS Android il sito internet e poi se per caso volete anche riascoltare i pezzi delle cialtronerie che dice Eribi c'è anche il sito goodmorning.milano.it Tutto questo lo trovate tutto questo tutte le mattine qui dalle 7 alle 9. I coma cose con malavita alle 7.48 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano vi ho detto che nella seconda parte di trasmissione poi parleremo di libri e anche dai giornali arrivano notizie che hanno a che fare col mondo dei libri e delle iniziative che ormai ovviamente le librerie devono mettere in piedi poi ne parleremo appunto nella seconda parte non solo ecco perché l'interessante è questo non è che io metto in piedi un'iniziativa solo per tenere vivo e per tenere aperta bottega ma proprio perché è la missione ormai di questi luoghi che non sono solo luoghi dove andare a comprare un libro ma sono luoghi in cui vivere la cultura e magari vivere anche delle esperienze legate alla cultura come ad esempio in questo caso nella libreria Potlac di via Padova che ha fatto questa iniziativa leggo appunto da Repubblica Milano le sciure in vetrina a Milano per leggere i classici dell'erotismo l'iniziativa letture erotiche per signori è della libreria Potlac di via Padova dall'insegnante alla pensionata l'idea ha conquistato il quartiere e quindi cosa succede in poche parole che hanno dato la possibilità appunto alle lettrici aficionados diciamo della libreria di poter mettersi in vetrina e leggere e leggere poi al pubblico che passa leggere a coloro che vorranno andare ad ascoltare queste letture dei racconti erotici appunto quindi un gruppo di donne di donne del quartiere di tutte le estrazioni possibili e immaginabili come appunto dice l'articolo parliamo di insegnanti parliamo di pensionate parliamo di di gente che passa spesso di lì o gente che magari ha scoperto la libreria solo per questa iniziativa nel senso che è iniziata la conoscenza arriva proprio da questa iniziativa e come succede appunto sono dei passi scelti tra dei libri appunto che verranno letti nel secondo appuntamento di letture erotiche per signore format che prosegue d'autunno il ciclo di libri mosso estate appunto che hanno a che fare con il mondo appunto di mosso che è questo luogo da quelle parti lì il direttore artistico del progetto è il regista Massimo Donati mentre le performers tra le prese con le pagine i versi più lussuriosi di gogliardia di gogliarda sapienza o saffo sono comuni o appassionati elettrici quasi tutte con casa in via Padovo poco lontano tutte entrate per puro piacere personale nella provocante squadra preparata da Eva Martucci appunto che è un'attrice queste donne leggeranno appunto in vetrina questi racconti questi estratti dai vari libri e animeranno animeranno il il quartiere perché è quello il concetto come queste iniziative non servono solo di scusamente come dicevo prima appunto a far conoscere la libreria a vendere due libri in più di quelli che magari già non si vendono normalmente ma perché vuoi portare appunto a far vivere il quartiere a far conoscere le persone le persone facendo così sapete una volta si diceva non so neanche chi è quello che avete sul pianerottolo della mia stessa scala ecco adesso questa cosa è un po' più difficile per fortuna nel senso che ci sono iniziative per cui alla fine ci si conosce per cui alla fine non è solo il bar o quei luoghi lì dove ti incroci con le persone o la cassa del supermercato no sono anche luoghi dove magari ci si ferma un attimo dove si tira un respiro dove si fanno i conti con se stessi e insieme agli altri e quindi ci si conosce ci si conosce meglio ci si conosce proprio diciamo in una comunità che è quello che vorremmo tutti quanti nei nostri quartieri insomma quindi benvengano queste iniziative culturali e anzi ne parleremo fra poco dopo il giornale radio con la nostra ospite che vedo già dall'altra parte del vetro e quindi siamo pronti a parlare di libri di libri indipendenti di zone periferiche di grande cultura che va ovunque nella città tutto questo come dicevo dopo il giornale radio qui in diretta su crystal radio nella puntata di oggi di good morning milano a fra poco ebbè è il crystal history il crystal history che vi fa ballare che vi fa muovere è questo che succede ogni giorno qui su crystal radio e ogni ora appunto c'è il crystal history sono le 8.07 siamo di nuovo qui in diretta con good morning milano sempre su crystal radio 96.2 fm sul dub plus poi c'è l'applicazione ricordatevelo sempre fondamentale sia per android che per ios e poi comunque c'è il sito internet quello è il sito che potete fare che è crystal radio.it dove voi ve lo aprite ve lo iconizzate sotto e fate fitte di lavorare ma invece ascoltate noi insomma come potete scappare da noi non potete noi siamo qui anzi grazie a voi che ci fate compagnia vi ricordo anche che c'è il nostro numero di whatsapp 331-7853-555 grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo al nostro numero whatsapp Alberto Adriana che ci hanno già scritto questa mattina e diamo il benvenuto invece alla nostra ospite che ci ha raggiunto ci ha raggiunto qui da terre lontane no in realtà è qua vicino adesso poi scopriremo bene dove Alessandra Cossar buongiorno 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 a tutti allora Alessandra è una di quelle temerarie che ha deciso anni fa di aprire una libreria esatto però funziona alla fine si può fare si può fare si dicevo ci hai raggiunto chissà da dove no in realtà siamo vicini perché siamo sempre comunque qui nei satelliti dello stadio di San Siro diciamo no ricordaci dove è la tua libreria allora a San Siro quasi all'ombra dello stadio perché sono in via Cappi Celatro in una zona che è di stampo prettamente residenziale quindi come dicevamo temeraria no però sicuramente in una controtendenza perché le librerie sono leggermente in sofferenza prevale un po' quest'idea di portare delle realtà di quartiere che siano anche da aggregazione quindi infatti ne parlavo prima leggendo anche le giornali insomma di come ormai è fondamentale fare questo tipo di aggregazione ma non solo cioè non è una mera trovata commerciale per vendere un libro in più ma è proprio per far diventare quel luogo qualcosa di diverso quasi no? sì esattamente anche perché c'è una gran sete di aggregazione soprattutto in alcuni quartieri dove l'offerta è tutto sommato abbastanza ridotta e questo oltretutto è riferito a tutte le fasce d'età abbiamo detto dove non abbiamo detto come però come si chiama la libreria la libreria si chiama libri e collane d'autore perché nasce da un gioco di parole un bizzarro gioco di parole che si può capire anche vedendoti con quello che è il collo possiamo collegare le cose? lo possiamo collegare anche se non voglio essere autocelebrativa perché effettivamente faccio gioielli ma le collane sono in realtà le collane editoriali quindi questo è per dare insomma sempre un tributo alla parte più nobile della questione però effettivamente anche i gioielli lì creano e hanno un loro ruolo molto preciso insomma leggere con stile ci può stare perché secondo me devo leggere sempre in pantofono posso leggere anche con un bel gioiello addosso volendo assolutamente aggregazione che è diventata fondamentale appunto diciamo per le attività come la tua anzi che creano l'aggregazione le attività come la tua la cosa interessante è che appunto in un quartiere prettamente residenziale poi si diventa appunto di riferimento spesso e volentieri però per qualcuno sicuramente sì faticosamente andando avanti un passo alla volta però bisogna dire che c'è adesso già un gruppetto di affezionati che partecipano alle tante attività proposte e allora di queste attività di queste tante attività ce le racconti oggi perché ce n'è una che sta arrivando anzi velocemente dimmi quella più prossima che è proprio domenica giusto che si inaugura la più prossima allora domenica avremo l'inaugurazione di una mostra d'arte anche se già oggi nel pomeriggio avremo ospite comunque un'autrice in libreria che ci parlerà di poesia non ci si ferma mai quindi qua punti a dire ok allora raccontiamo bene cosa succede domenica no ma aspetta ferma perché oggi venerdì a che ora proprio raccontiamo meglio alle ore 16 e 30 ecco vedi chi viene a legge Elena Diomede ecco con ed edalo e me anagramma del suo nome raccolta di poesie ah bene adesso poi ce lo racconti meglio dopo la prossima canzone perché appunto capiamo come il calendario invece è fitto di appuntamenti e potete appunto passare di lì via capecelato giusto numero 75 75 all'ombra dello stadio di San Siro finché c'è se non ci sarà più quello ci sono le torri che stanno costruendo di fianco quindi va bene e poi comunque passate e conoscerete sicuramente una realtà interessante di cui appunto parliamo questa mattina qui a Good Morning Milano Snap Rhythm is a Dancer 8 e 14 minuti anzi quasi 15 Crystal Radio venerdì 18 ottobre parliamo di libri di collane d'autore e anzi della libreria appunto libri collane d'autore di Alessandra Cossar oggi dovremmo parlare appunto di un evento che ci sarà nel weekend ma poi parlando veniamo a scoprire che ce ne sono non uno ma ben due prima del weekend in realtà giusto due bene oggi oltretutto il giorno che vuoi piove c'è lo sciopero dei mezzi proprio ti piace fare le cose difficili Alessandra mi piace andare controcorrente e devo dire ringrazio gli audaci che riescono comunque a vincere queste ostilità quindi a che ora iniziamo oggi? alle 16.30 avremo appunto la presentazione di questa poetessa di questa raccolta di poesie ed edalo in me che invito sicuramente a conoscere soprattutto agli appassionati di poesia mentre proseguiamo la serata questo alle 18 con il nostro consueto cabaret letterario cabaret letterario cos'è 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 raccontamelo il cabaret letterario è un incontro che noi abbiamo una volta al mese che è una sorta di circolo della lettura e non solo quindi non si è obbligati a portare un libro ma gli scritti portano legati ad un argomento che lanciamo che in questo caso oggi non a caso sarà ovunque può esserci poesia ognuno può portare che sia uno scritto un'opera d'arte o musica che possa evocare l'argomento e poi c'è un'autrice che tira le fila e c'è un dialogo intorno a quest'argomento del giorno bene bene e si ridi anche cabaret nel senso o più cabaret nel senso di paste lo chiamiamo no è cabaret perché in realtà c'è un po' di tutto c'è un'alternanza di tanti argomenti e c'è insomma dal serio al faceto ma adesso invece arriviamo a quello che succederà appunto nel weekend perché nel weekend si apre io dico l'ennesima nel senso buono del termine esposizione e mostra nel tuo spazio spesso ce ne sono tante questa volta è il turno di chi e di che cosa? allora questa volta è il turno di Milo che è un artista bresciano nome d'arte di Lorenzo Mocchetti che ha il suo atelier a Brescia è un artista promotore della realtà permanente porta diciamo un messaggio particolare con le opere che noi esponiamo in questo momento perché sono un po' fuori da quelle che normalmente propone e perché sono delle immagini che alla fine vogliono fare un po' una denuncia su quello che è il degrado dell'uomo riferito all'ambiente animali eccetera quindi opere molto interessanti che si rifanno un po' allo stile di Mimmo Rotella un po' la pop degli anni 60 quindi c'è questa sfogliazione di collage di manifesti che poi vengono un po' strappati con e c'è un tripudio di colori adoro con lo stile io adoro con lo stile devo dire che sono delle suggestioni molto interessanti è comunque stato pubblicato anche sul Grande Atlante dell'arte di Agostini perché è stato scoperto appunto da Dunil il quale insomma l'ha pieno titolo inserito tra gli artisti di talento interessanti italiani del momento quindi domenica avremo questa inaugurazione domenica in augurazione e poi per un mese giusto rimarranno le opere esposte nel nostro spazio e si può venire quando tu sei aperta lì quando la serranda è su si può venire orari libreria si può venire tranquillamente a visitare l'esposizione questo dal 20 di ottobre al 20 di novembre e questo è che è interessante perché appunto diventa l'arte in tutte le sue parti a quel punto perché appunto anche il lipo può essere arte ovviamente ma anche le collane possono essere arte in questo caso anche i quadri possono essere arte e arrivano ed entrano nella nostra vita quotidiana nella bottega sotto casa e quindi siamo ben contenti appunto di sapere che esistono ancora luoghi così di cultura nella nostra città Paola e Chiara insieme a Big Mama il linguaggio del corpo di linguaggio stiamo parlando non solo del corpo in realtà forse anche del corpo perché sicuramente avrei fatto delle ma Alessandra sicuramente avete fatto delle mostre di fotografie cose c'è sicuramente quindi insomma tutti i linguaggi sono toccati nella tua libreria direi di sì anche se è tutto capitato un po' per caso perché come si sa ogni tanto nelle cose si inciampa perché la libreria è stata aperta mettendo insieme queste due cose che mi appassionavano quindi il mondo dell'editoria e l'altro il fatto che io facessi gioielli artigianali quindi costruendo all'interno della libreria dei percorsi perché di questo si tratta perché io poi presento delle stampe di personaggi storici addobbati coi gioielli con vicino i libri a tema alla fine questo un po' mi ha valso una certa attenzione da parte invece di chi più professionalmente di arte si occupa suggerendomi anche di inserire delle cose proprio invece con degli artisti quindi è iniziato una collaborazione prima con ci sono stati dei ragazzi che hanno partecipato alla Biennale le arti possibili quindi e che sono stati vincitori del liceo Stendhal che hanno fatto una loro mostra poi da quello ne sono nate delle altre le più recenti quella con Simona Cuzzupoli con i suoi favolosi Diorami che espone e lavora Bottega Brera per le Gallerie d'Italia Torino quindi che fa proprio questi mondi che sono fantastici da lì ce ne vengono minuscoli poi alcuni sono dei dettagli che sono veramente infinitesimali in alto che millimetrata molto meno quasi assolutamente magici proprio e adesso avremo Milo però appunto tu hai queste due grandi passioni dalla parte appunto l'editoria dall'altra il fatto che facevi gioielli però avresti potuto tranquillamente andare a fare l'impiegata in un'azienda editore-editoria e farti i tuoi gioielli per le tue amiche a Natale e regalarglieli punto e invece no come è che poi passi a fare proprio l'imprenditrice di te stessa diciamo ma allora dunque innanzitutto vabbè di libri mi sono sempre occupata quindi ma in maniera diversa perché facevo il distributore ho deciso poi di aprire invece una finestra sul mondo e di avere quindi un'attività che fosse accessibile a tutti e io ho sperato e ho cercato e credo e spero di esserci riuscita di portare un angolo di bellezza perché un po' in controtendenza ad un appiattimento che c'è riferito a tante attività senza nulla togliere però il cercare qualche cosa di diverso e un luogo dove le persone potessero sentirsi a casa buttare l'angolo ancora e dire mi siedo anche volentieri a sfogliare un libro ecco e voglio anche fare strappare una pagina a favore di un messaggio invece di uno spezzo lancia ma strappo pagina in questo caso che è una blasfemia credo per qualcuno che vende libri però tutto questo senza essere lasciate passatevi il termine dei pesantoni perché in realtà nell'altro opposto nel tuo negozio nel tuo libro che si ride tanto anche cioè questo è il bello nel senso non è quella roba di dire mamma mia adesso andiamo al circo del libro con questi pesantoni che mi fanno leggere Kafka e non me lo fanno neanche capire no invece è tutta un'altra storia assolutamente sì assolutamente sì parto dai giovani lettori diciamo che sono quelli del futuro quindi con dei libri per bambini che sono veramente belli e poi sì si viaggia attraverso la storia ma molto anche attraverso l'arte cose anche fotografiche insomma cose che possano veramente piacere ma tutte selezionatissime questo sicuramente ogni libro viene scelto da mettere dentro la mia libreria c'è un grande lavoro appunto dietro come fai a sicuramente leggerai tantissimo sicuramente sfoglierai tantissimo ma come fai a scovare spesso e ventieri anche allora dunque alcune cose sono proprio un po' di pancia e altre invece quelle che leggo sono molto anche quelle degli autori che adesso presento nella libreria quindi paradossalmente non dico che legga meno di prima però sicuramente sono già delle letture che sono proprio finalizzate anche alla scelta dei testi cosa legge invece Alessandra quando vuole leggere qualcosa di suo cioè per non pensare al lavoro cosa leggi? beh saggi sicuramente poi mi piacciono moltissimo le autobiografie e poi vabbè senz'altro l'arte e la storia e tutto questo alla fine lo ritrovate lo rivedete proprio nella costruzione anche diciamo del luogo fisico che io vi invito appunto a andare a vedere in via Cape Celato ci fermiamo qualche secondo un po' di musica due consigli per gli acquisti e poi torniamo ancora qui a parlare con Alessandra Cossar parliamo di libri parliamo di cultura parliamo di quartiere parliamo di territorio parliamo di tutte queste cose messe insieme perché esistono e si possono anche fare molto bene a Milano Alessandra è la prova di questo Panja BMC oggi alle 8.35 minuti mi raccomando tenete le mani sul volante lo so che avete cominciato a mettere le mani sopra la testa di fianco alle spalle avete cominciato a muovere la testa avanti e indietro mi raccomando state guidando tenete le mani sul volante e se siete in ufficio non andate adesso dal capo a chiedergli l'aumento in versione Bollywood mi raccomando so che magari vi ha influenzato questo ma non fatelo invece quello che dovete fare è andare oggi alla libreria con libri e collane d'autore questo è il titolo corretto di Via Capecelato di Alessandra perché Alessandra Cossar perché appunto c'è tanto oggi da vedere ok ma anche domenica ricordiamo velocemente i tre appuntamenti poi presentazione del libro Ed è d'Om oggi ore 16.30 ore 18 cabaret letterario con Rosa Parrella e ovunque può esserci poesia portato uno spunto e domenica dalle 15 alle 18.30 inaugurazione della mostra pittorica di Milo con presente l'artista l'artista ma quanti vinti hai fatto più o meno da quando è aperto ad oggi hai fatto un conto approssimativo qualche centinaio quanti no non saprei però diciamo senz'altro almeno uno al mese almeno uno al mese bene almeno uno al mese ecco ma come nasce l'interesse per certi tipi di eventi che fai allora uno è nato proprio dall'impostazione stessa della libreria che in realtà è costruita con delle scenografie e l'idea è proprio quella di poter portare degli artisti anche magari a livello semplicemente di stampa di poster e facendo degli allestimenti dando l'opportunità anche ai più piccoli di arrivare in una libreria e girare tra gli scaffali come se fosse una mostra questo e queste sono scenografie però che io faccio e poi ci sono quelle più nobili e quindi invece con artisti autentici che vengono con le loro produzioni e quindi si presentano diciamo che alla scenografia si aggiunge anche la sceneggiatura in quel caso esattamente esattamente si va proprio in scena e tutto questo voi penserete no vabbè è ovvio tutto questo in un grandissimo open space di 400 metri quadri quanti metri quadri è la libreria? molto piccola purtroppo è il suo limite però posso dire che tu dici purtroppo è il suo limite ma invece è il suo bello sembra che c'era questa cosa non so chi di voi è appassionato di Dottor Wu c'è il Tardis che è questa navicella con cui lui viaggia che è una cabina nel telefono vista da fuori poi quando si apre la porta dentro è gigantesca la battuta classica è più grande dentro di come è fuori in realtà quando si da fuori è una vetrina farò una battuta dico che è più grande perché è fatta grande da chi c'è dentro bravissima però quando si entra davvero sembra immensa sembra sconfinata quando si entra dentro come si fa a fare questa magia? la magia non si sa è perché tutto viene nascosto sotto i tavoli sotto per fare spazio poi alle persone che arrivano che quando effettivamente le proposte sono interessanti sono anche disposte a stare abbastanza appiccicate ecco quindi se uno riesce a superare questi limiti poi è un salotto accogliente io spero almeno e almeno da quello che mi viene riconosciuto quindi quando dico fatta grande da chi c'è dentro non intendo me ma naturalmente dai frequentatori quelli che arrivano e che arricchiscono quello che fa è la proposta diciamo appunto che il quartiere in cui sei inserita è un quartiere prettamente residenziale qualche negozio vicino a te pochi ahimè alcuni chiudono anche e come era esposto però il quartiere appunto adesso ci aprono la tintoria invece poi mi sono che aprivano la libreria com'è andata ma allora dunque San Siro come poi tutti i quartieri alla fine è come se avesse una sorta di braccia che arde sotto la cenere così come io che da sempre vivo lì in realtà ho avvertito la necessità e ho sempre pensato che ci dovesse essere qualcosa ho detto ci sarà qualcun altro come me con le stesse necessità quindi io ho detto perché andare lontano da qui gioco in casa e cerco di portare una proposta che arricchisca il quartiere l'ho fatto anche un po' egoisticamente forse per me stessa come proiezione del mio desiderio e di fatto qualcuno in effetti questa necessità l'aveva e la risposta c'è e la risposta c'è perché appunto questi eventi come dicevamo poi pigiati pigiati ma poi il pubblico in realtà c'è e la gente viene a frequentare che è la cosa più bella che non è solo clienti ma appunto sono frequentatori che è ancora più bello continuiamo con un po' di musica e poi continuiamo qui ancora perché abbiamo ancora un paio di cose voglio sapere ancora un paio di cose su com'è la vita da Libraia sono molto molto curioso qui con Alessandra Cossar in diretta su Crystal Radio Good Morning Milano Per due come noi Olli e Angelina Mango qui su Crystal Radio Good Morning Milano allora al 3317853555 arrivano richieste di dicci bene dov'è la libreria perché non hanno capito sono persi molto probabilmente all'inizio dov'era e quindi ripetiamolo perché vogliono sapere le coordinate GPS per raggiungere Alessandra la libreria è in via Cappecelatro 75 quindi vicinissima allo stadio mi si può trovare anche su un sito web che c'è che è libri e collane d'autore.com libri e collane d'autore.com tutto attaccato mi raccomando oppure su Instagram libri e collane d'autore sui social ma quanto è dispendioso stare dietro a ste cose per esempio Alessandra parliamolo parliamolo diciamolo diciamolo ci arrangiamo sono anch'io di questa parrocchia nel senso che diciamo bello facciamo una strada ma anche quello no e invece bisogna farlo ma non si diventa ricchi quello si fa perché c'è passione ovviamente quindi questa è la passione che muove tutto ecco la passione che mi sembra tu stia però anche riuscendo a trasportare in chi viene si si com'è che cosa chiedono e cosa vogliono le persone che vengono da te cosa cercano anzi allora innanzitutto senz'altro tutte le cose che sono state proposte sono anche nate proprio da alcune indicazioni che ho raccolto qua e là quindi il cabare letterario per esempio adesso tu giustamente mi chiedevi ma cos'è si ride non si ride è nato dal fatto che per esempio nei circoli della lettura che avevo tenuto avevo osservato che magari era difficile per tutti stare al passo con la lettura del libro quindi c'è chi ne legge cinque ed è un bulimico dei libri e li legge in un mese c'è chi legge di meno c'è chi è rimasto indietro perché ne sta leggendo un altro mentre c'è una voglia di aggregarsi quindi il cabare letterario lanciando un argomento visto che tutti hanno voglia in realtà di incontrarsi e confrontarsi dà l'opportunità di parlare di cultura a tutto tondo perché si parla di musica di arte di tutto però legato a un argomento il che è diverso perché ognuno porta il suo e così va in scena con il suo contributo tu quando è che hai aperto mi dicevi nel nel 20 nel 20 pieno covid infatti quando poi insomma la voglia di aggregarsi all'inizio era siamo assopiti dalla paura di aggregarsi assolutamente assolutamente com'è cambiata la gente in questo periodo allora diciamo che se l'osservatrice è importante da questo punto di vista perché li vedi sicuramente diciamo che l'avere aperto durante il covid non ha aiutato anche se le librerie erano aperte come le farmacie quindi questo mi ha dato l'opportunità per me è stato salvifico perché ho potuto dare il mio contributo creativo quindi in quel momento io ho potuto organizzarmi fare una serie di cose l'utenza naturalmente era molto limitata mi guardavano con curiosità ma magari si tenevano alla larga non tutti avevano il coraggio di entrare però è stato un momento un po' di cristallizzazione in cui ho potuto valutare quando fossero per esempio i flussi quando la gente si muove quando la gente ha voglia infatti io per esempio il sabato sono chiusa sono aperta solo il sabato mattina perché il sabato la gente si sposta verso il centro fa la spesa se faccio le iniziative è più la domenica perché diventa la domenica del villaggio ecco ecco è molto bella questa immagine del magari scende perché fa capire proprio come davvero sei di prossimità quando si dice in questi casi sei quella della porta accanto in questo caso sì assolutamente sì la tua utenza arriva quasi tutta appunto dal quartiere immagino dal quartiere ma c'è adesso qualcuno che sfida le distanze quindi posso dire ecco questo è forse è quell'upgrade chiamiamolo nel senso che davvero adesso c'è qualcuno che invece prende la metro attraversa Milano e queste sono soddisfazioni e che soddisfazioni perché se attraversassi la città a volte non è così semplice ma se lo si fa e lo si fa per qualcosa di davvero davvero interessante Lady Gaga insieme a Beyoncé con telefono alle 8 e 50 minuti da 5 minuti è iniziato lo sciopero dei mezzi al momento risultano chiuse M2 ed M4 ma rimaniamo un attimo così con le orecchie e gli occhi sul sito di ATM sulla app perché potrebbero esserci nuovi risvolti ricordiamo fino alle 15 chiuso cioè fino alle 15 va in scena lo sciopero e poi questa sera dalle 18 fino a fine servizio se però riuscite a muovervi prima potete arrivare ad Alessandra senza problemi nel senso poi dopo ma poi il tram passa ma cadda venite col tram col 16 che tanto quello passa sempre non è un problema verissimo giusto o no e allora siamo arrivati alla fine della nostra puntata siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata insieme a te ricordaci bene tutte le coordinate sulla tua libreria e anche a questo punto lo so te l'ho fatto ripetere mille volte ma sai la radio è così c'è chi la accende chi la spegne chi passa chi non passa ricordiamo bene gli appuntamenti di oggi e di domenica allora libri e collane d'autore via capecelatro 75 sito www libri e collane d'autore punto com oppure mi trovate sui social e oggi ore 16 e 30 presentazione della poetessa della raccolta idee d'Aloime ore 18 cabare letterario con Rosa Parrella mentre domenica 20 dalle 15 alle 18 e 30 inaugurazione della mostra di Milo con presente l'artista vi aspettiamo numerosi e la mostra andrà avanti comunque dal 20 di ottobre al 20 di novembre insomma c'è davvero davvero tanto in questa bellissima libreria che vi invito ad andare a conoscere e a scoprire appunto in via capecelatro Alessandra grazie mille di essere qui con noi grazie a voi tanto so che appunto di eventi nei tanti quando sarà il prossimo ti aspettiamo qui ancora per raccontarcelo volentieri ci potremo anche i protagonisti mi piacerebbe portati la prossima volta una delle tue affissionados delle tue lettrici che mi piacerebbe intervistare anche lei oltre a te va bene volentieri va bene dai grazie mille Alessandra Cossar grazie per tutto quello che viene fatto anche appunto nei quartieri per come vengono vissuti questi quartieri adesso ancora una canzone e poi torniamo per i saluti finalissimi qui adesso è il momento di Rettore Edito nella Piaga 8 e 55 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano di oggi venerdì 18 ottobre dopo di noi lo sapete benissimo c'è Ambrogio Curti con Senti Questa ebbene sì tutta la musica raccontata spiegata fatta ascoltare e proprio ti prendi e dice ascolta vieni con un attimo Senti Questa e lui te lo dice così direttamente facendoti capire le storie che ci sono dietro le canzoni questo è Senti Questa alle 9.05 qui su Cristian Radio con Ambrogio Curti invece se volete riascoltare tutto quello che è successo qui in studio in questa settimana ma anche nelle settimane precedenti o anche nel futuro no nel futuro ancora non siamo stati attrezzati però non siamo ancora attrezzati ma potremmo prima o poi farcela comunque c'è un sito goodmorning.milano.it tutto quello che succede qui lo ritrovate lì spezzettato messo bene un cocktail uno spezzatino una macedonia come volete potete prendervelo e gustarvelo su Spotify su Apple Podcast su YouTube o appunto sul sito goodmorning.milano.it poi noi adesso siamo pronti per il weekend voi cosa farete questo weekend? raccontatelo raccontatelo anche agli amici di K-Day che vengono dopo di noi le voci che avete sentito questa mattina sono quelle di Eri B Alessandra Costa e Fabio Ranfi in regia la bravissima Ginevra che oggi ha fatto tutto da sé una One Women Show quindi grazie Ginevra per tutto grazie a tutti voi che invece avete ascoltato buon weekend a lunedì ciao grazie a tutti Grazie a tutti.